E iniziamo parlando del nuovo trailer di House of the Dragon 2, serie popolarissima. Credo che ancora oggi la prima stagione abbia sfondato qualsiasi record di HBO, proprio canale televisivo, quindi tralasciando Max. E a dispetto di quanto era successo in una puntata di Facce di Nerd poco tempo fa, in cui abbiamo scoperto che per tutti è una chiavica, pare sia molto apprezzata. Di conseguenza cerchiamo di scambiarci opinioni su questo trailer abbastanza corposo, due minuti e mezzo mi pare. Bello lungo. Signor Andros. Bello lungo, io vi dirò che l'ho visto esattamente adesso, questo trailer, in questo momento qui, con un orecchio ascoltavo i vostri saluti e con l'altro ascoltavo e vedevo il trailer. Multitasking. Assolutamente sì. Ormai abbiamo tutti lo strabismo da content creator e da streamer, che con un occhio guardi la chat, l'altro guardi un'altra cosa e con un orecchio ascolti chi di dovere. Il trailer, allora, è bello corposo, come dicevi tu, e io, come ben saprete, non sono stato uno che ha particolarmente apprezzato la prima stagione di House of the Dragon. Credo di averla dovuta vedere tre volte, perché per tre volte mi sono addormentato a un certo punto. E poi, alla terza visione, hai presente quelle visioni nel tempo, no? Che hai capito? Tutte le volte riprendi da un po' prima perché non sai esattamente il momento in cui ti sei addormentato. Devo dire che però questo trailer già mi intriga di più, da solo, rispetto a tutta la prima stagione. Forse anche per il fatto che, da un certo punto di vista, ormai io sono un po' allergico alle origin story. O comunque, discorso che poi varrà anche un po' per il, perché di cui ne parleremo dopo, del trailer degli Annelli del Potere. Sono un po' allergico, da un certo punto di vista, a questo. Come per Star Wars ne possi più di sentire gente che scopre la forza, perché ormai sono 45 anni, o di più, quant'è? Forse di più di 45 anni, che vediamo gente che scopre la forza. 77, 77. Ecco, quindi che scopre la forza. I gambi delle donne. Qua, a vedere comunque i personaggi che ci sono già stati introdotti nella prima stagione, quindi sappiamo già più o meno chi sono. Cioè, diciamo che mi ritrovo un pochino più a casa, tra virgolette, anche nel seguire il trailer. Non ho quella sensazione della prima stagione che ho passato per metà tempo, un po' a dormire, un po' a dire, che cazzo è questo, che c'è a schermo, perché non mi ricordavo, e effettivamente nessun nome. Adesso, visivamente, anche solo così, ah sì, ma lui è il figlio di quell'altro, che però... E non mi dispiace. Continuo a dire che, perlomeno per quello che si vede nel trailer, io continuo a non apprezzare particolarmente il design dei draghi. Viverne, va bene. Non i draghi, o è il contrario, questi sono draghi, davvero. Questi sono draghi, perché io non le so molto fanno, si può fare quello che cacchio gli pare. Però, 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 aspetta, aspetta. Però, tecnicamente, la Viverna non ha quattro zampe, cioè... No, in India ci sono draghi a otto test. È tutto un casino. Ah sì, sì, ma io me la colo. È diventata una contattata di Gheo in Gheo. Io sto con Alex. Non ho capito. Lo sapevo che creavo un casino. No, io sono con Alex. Alex, basta dare leggi ad animali che non esistono. Sennò poi si comincia così, si comincia così e poi si dice che le sirenette non possono essere nere perché sott'acqua non arriva la luce. È vero, perché si crea un precedente pericoloso, vero? Ma non c'è una cosa su sta roba dei draghi, eh? È vero. Tutti quelli che si lamentano sono Viverne, non sono draghi, eccetera. Ma io ho una domanda. Quando il drago di Namek si è rivelato essere Polunga, qualcuno ha rotto il cazzo? Perché io non ho mai visto un drago come quello, eh? No, ma questo è un drago palestrato. Un drago palestrato era quello, eh? No, 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 quello fa parte della cultura cinese. Io se posso dire. No, esatto. Ci sono poi le regole interne. No, 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 no. Sì, ma i Targaryen in tutto questo. I Targaryen sono lì. Nel senso, io... La discussione sui draghi è più interessante della serie. Abbiamo la risposta, ragazzi. Scusate. Allora, io ho cercato, sicuramente oggi dovevi intervenire per primo, ho cercato, insomma, di dare una nota positiva, però anche voi si è creato un vespaio. Ho tentato di depistare sulla Viverna, però purtroppo... No, adesso, scherzi a parte, seriamente questo trailer già... Non lo so, mi piace di più di tutta la prima stagione, però ho il gusto personalissimo. Più che altro non lo so, forse sarà che lo vedo un po' più dinamico, perlomeno. Poi noi lo sappiamo, comunque, Game of Thrones in generale, tutta la sua saga, cioè, gira tutto molto intorno agli scopamenti. E il fatto che in questo trailer, invece, si veda parecchia azione, perché io ve lo dico proprio chiaramente, io nella prima stagione facevo anche un po' fatica, perché poi c'era quello che andava con quell'altro, che poi era la nipote dello zio del fratello. Già in Game of Thrones, però Game of Thrones, all'inizio, insomma, ci davano dentro, poi dopo è stato sempre meno, ma era già più facile ricondurre i personaggi. Ok, sì, va bene, questi sono parenti, d'accordo. Qui sdoganano tranquillamente la cosa. Allora, c'è sempre quella patina che aveva anche la prima stagione, che la trovo leggermente diversa rispetto a Game of Thrones, che a me non fa impazzire, devo dire la verità. Non so con cosa l'abbiano girato, o se poi abbiano aggiunto questa patina successivamente in colorimetria, questo non lo so. Però ha quello slavatino che a me non fa impazzire, devo dirlo. Cioè, non lo so, non glielo vedo proprio addosso. Anche perché se uno fa il confronto un po' con Game of Thrones, Game of Thrones era slavatino a tratti e poi improvvisamente buio nelle ultime stagioni per coprire il budget. Il meno possibile. Però era anche molto colorato da un certo punto di vista, mentre invece House of the Dragon, cioè, probabilmente ci stanno 256 colori e poi abbiamo finito. Non si arriva neanche ai milioni, perché quella è la palette. Vi dirò, non mi è dispiaciuto così tanto. Certo non faccio i salti mortali, questo è poco ma sicuro. Però, vediamo. Non dispiace. L'unica cosa che non ho capito è quando esce. 17 giugno. 17. Quindi lui esce, cioè, nonostante si siano fatti a guerra per il trailer adesso, questo esce tre mesi prima rispetto all'altro, perché l'altro sarà a fine agosto. Sì, ma non si muovono per stare ai piedi, secondo me. Sì, sì, ma infatti qua la campagna marketing era iniziata già da un po'. Questo infatti non è il primo trailer. No, infatti anche perché poi c'erano i due trailer separati, prima avevano fatto cos'era, quello verde e quello nero, non mi ricordo. Esatto, esattamente. Però devo dire, a parte l'ultimo che si vede nell'ultima scena, che adesso ovviamente non mi fucilate, non mi ricordo esattamente qual è il drago di chi, come si chiama, eccetera. C'è l'ultima scena appunto di Celei dietro il drago, quello devo dire effettivamente abbastanza minaccioso, gli altri non mi fanno impazzire. Cioè ho sempre un po', che è la stessa cosa che ho avuto anche nella prima stagione di House of the Dragon, cioè con questi draghi che non lo so, non mi piacevano. Non so se è una cosa solo mia o se anche qualcuno di voi ha avuto un po' sta cosa. Vediamo, vediamo. Victor, dici! Io invece l'ho proprio amato, nel senso che mi è piaciuto tanto, da persona che ha apprezzato moltissimo la prima stagione, sicuramente c'erano delle criticità, però sarà che è arrivata dopo l'ottava del Trono di Spade, diciamo che a me è piaciuta molto di più rispetto alla deriva che aveva preso la serie principale. E quindi l'ho apprezzato soprattutto perché per tutto il trailer tu senti lo spettro della guerra. Ci sono alcune scene di battaglia, però essendo una serie che comunque non ha come punto forte le scene di battaglia, anche il Trono di Spade comunque si basava sugli intrighi, però diciamo che le cose che ti ricordi maggiormente di quella serie sono quelle puntate con le battaglie come Battle of the Bastards, che era qualcosa di incredibile, la battaglia, la barriera, insomma, aveva i suoi momenti. Per cui qui puntano molto in questo trailer a farti capire che ci sono dei dissidi interni alle due fazioni, perché comunque i due elementi di disturbo sono Daemon da una parte e Daemon dall'altra. Tra l'altro due personaggi assolutamente complementari a partire dal nome che è l'anagramma. Entrambi sono l'anagramma, hanno le stesse lettere, quindi è anche una cosa fatta un po' apposta. E quindi a me questa cosa piace, l'idea che comunque Rhaenyra non abbia totale appoggio da parte di Daemon, l'idea che Aemon l'ha fatta anche grossa, se avete visto la prima stagione. Quella cosa porterà, se uno ha letto i libri e lo sa, a delle conseguenze, ovviamente. Ovviamente non so come la metteranno in scena, però a me ha gasato tantissimo. Mi ha gasato tanto perché comunque vedi che sono due fazioni che si devono affrontare, ma Rhaenyra e Alicent comunque in un certo senso si vogliono bene, quindi hanno delle remore ad affrontarsi apertamente. Le persone che fanno parte delle fazioni non sono molto d'accordo con chi le comanda. Da entrambe le parti, tra l'altro, quindi le certi in sé non ci sono in entrambi i casi. E poi a me non è dispiaciuta la CGI dei draghi, ma in generale proprio gli effetti li ho visti abbastanza convincenti, anche perché già la prima stagione aveva un discreto budget. Questa dovrebbe avere uno ancora più alto, forti anche del successo che ha avuto, perché comunque per quanto il Trono di Spade abbia sempre aumentato il pubblico, gli spettatori, stagione dopo la stagione, As of the Dragon è riuscita a battere il record dell'ottava stagione del Trono di Spade. Quindi credo sia la prima volta forse nella storia che un franchise aumenta progressivamente ad ogni nuova interazione. A livello seriale non credo sia mai successo. A livello seriale, sì. A livello seriale non credo sia mai successo che una serie riuscisse a mantenere otto stagioni andando sempre in alto e lo spin-off faccia ancora di più della serie principale. Credo non sia mai successa una roba di genere. C'è Star Trek? Spai che secondo me no, perché ci sono stati dei flop. Ci sono state delle serie flop di Star Trek, quindi no. Sì, certo, certo. Non mi risulta. Credo adesso, non è che ho la documentazione sotto mano, dovrei fare una ricerca, ma a naso, a sensazione non credo che sia mai successo una cosa del genere. Quindi è bene così. Anche perché poi hanno cancellato recentemente lo spin-off, quello su Jon Snow. Anche lì era un'idea stronza di base, quindi meno male che l'hanno fatto. Non credo che siano neanche iniziato a svilupparlo. No, 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 però era ufficiale. No, era ufficiale. Sì, sì, volevano farla, ma non è che ci fosse un team di sceneggiatori. E ti dirò di più. C'è una cosa che non c'è nel libro di Fire and Blood, Fuoco e Sangue, ma che hanno inserito nella serie che io ero convinto che avrebbe portato a uno sviluppo per lo spin-off, la questione della profezia. Non c'è. Ad esempio, l'originale, io ero convinto che l'avessero pensato apposta per lo spin-off, ma l'hanno cancellato. Quindi a maggior ragione. Però sono curioso. Eh, non lo so, magari avranno qualcosa di... Avranno qualcosa pronto. Sta di fatto che comunque è un trailer molto ritmato. L'ho preferito al doppio trailer Black Green che era uscito qualche settimana fa. Mi è piaciuto molto. Io già ero abbastanza contento. Cioè, io volevo vedere la seconda stagione. Però così mi hanno messo un fomento maggiore. Ma l'ho apprezzato meno rispetto all'altro trailer di cui parleremo dopo. Anticipo questa cosa. Mi è piaciuto ma ho preferito l'altro. Se dobbiamo fare un confronto che secondo me non ha senso fare perché sono due tipi di fantasy completamente differenti. C'è un commento che non capisco per nulla. Lo leggo. Vabbè, anche i filmini del mio battesimo fatti negli anni 90 batterebbero i guadagni dell'ottava stagione di Game of Thrones. Forse non ci siamo capiti. L'ottava stagione di Game of Thrones deteneva il record precedente. È stato un successo che Game of Thrones dalla prima all'ottava stagione non ha mai avuto un calo di pubblico. E la cosa eclatante è che lo spin-off di Game of Thrones ha battuto ancora il record dell'ottava stagione che era quella andata meglio in assoluto. E parliamo di numeri che televisivamente parlando fanno paura. Ok? Però non abbiamo in mano i dati del suo video del battesimo. Quindi magari è comunque vero. Hai presente il discorso sul volere le pupille altrui? Siamo sempre su quella regina. Secondo me non voleva dire il filmini del mio battesimo sono meglio però ha confuso... Ha parlato di guadagni. Guadagni... Ma ha detto batterebbero i guadagni. Magari è... Ma poi è che ne sapete. Magari è un battesimo incredibile poi la vedevi sul filmino. Quindi zitti. È vero. In effetti lui non ci ha ancora detto ma l'ha girato Martini Scossino. Il figlio di Obama ce l'ho capito. In realtà è Megalopolis. Ma signoretti... No vabbè ma è giusto fare sempre il confronto fra numeri e eventuale apprezzamento perché poi è questo il problema. Vabbè sottolineiamo anche che la campagna marketing è un po' diversa. Infatti Mattia prima l'ho accennato di trailer ne sono arrivati tanti. Questa è una campagna marketing che è ormai nella fase finale perché la serie sta per uscire mentre invece Amazon parte adesso con la campagna marketing degli anelli del potere. A me il trailer è piaciuto tantissimo. Proprio tantissimo. Tutto quello che ho visto. Questa tensione che continua a respirarsi. L'avevamo già respirata nei trailer precedenti. Questo è praticamente quello confezionato meglio secondo me che ti vende il prodotto finale. Ormai è questo. raga andatevela a vedere. Vabbè sì anche dal punto di vista tecnico. Poi sì a volte i draghi sono mostrati con la controluce. Si gioca un po' anche per cercare di aumentare l'elepicità. Ma vabbè parliamo di una produzione ad alto budget in ogni caso. E poi forse l'unico problema ci sono tutti nel trailer. Tutti quanti. Forse mi sembra di non aver visto Peppe Fetish. È l'unico che mi manca. Quindi spero che nella serie abbia comunque un ruolo o di una certa caratura. Però a parte quello finisce il trailer e penso mi è piaciuto. Bello. È una serie che guarderei. Però non mi sento attaccato ai personaggi. Ogni volta penso a come ho vissuto la prima stagione. E non lo so. Non mi sento proprio affezionato a loro. Forse un po' a Rhaenyra. Un po' a Daemon. Ma per il resto non... Tutta quella tiritera. Alice sente cose. Pure il personaggio di Recythe. Insomma. Mi fa ricordare cose brutte. Non lo so. Vediamo. Voglio vederla perché la mia curiosità ce l'hanno comunque. Però non sono... Cioè io credo che se qualcosa tipo riesce a piacerti, a conquistarti con la prima stagione è ovvio che tu guardi la seconda e sei più propenso ad aspettarla. Ecco. Magari non è il mio caso. Poi parleremo dell'altro trailer. Però per adesso va bene. Io spero solo che per mio gusto siano riusciti a... ad aggiustare il tiro. Il problema è che non hanno nessun bisogno di aggiustare i tiri perché se gli è andata bene quella là la fanno identica. Eh sì. Quindi vediamo. Infatti qui c'è un pool di persone strane che disprezza quanto proposto. mentre tutto il resto del mondo trionfa. È particolare. Vi ho corrotti nell'animo e nello spirito probabilmente. Michele. Ma io ho il trailer di House of the Dragon l'ho visto mentre Andros a cui faccio i miei auguri pubblicamente di buon compleanno. Ora che è maggiorenne possiamo sposarci. Era una cosa che aspettavamo da anni e quindi sono molto felice di questa ricorrenza. la mia posizione non cambia di una virgola rispetto a quando sono usciti appunto i due trailer delle due fazioni Targaryen. Non ho ancora finito di rivedere i primi episodi e di concludere la visione della prima stagione. Ho recuperato giusto in questi giorni ho messo lassù su uno scaffale il mio 4K pagato 9,90 con i saldi da GameStop qualche mese fa però il recupero nel prossimo mese ho dato un'occhiata il trailer è ben confezionato molto lungo molto ricco però io faccio ecco le parole di Filippo cioè io li guardo e sembrano tutti depirla con le pallucche bionde cioè anche quei 3 o 4 episodi che ho visto non sono riusciti a farmi appassionare e affezionare a nessuno dei personaggi coinvolti ripeto poi è un giudizio parziale ci sono di mezzo anche degli skip temporali importanti che portano avanti la caratterizzazione ma se in questo momento mi dovete chiedere c'è qualcosa che non attendi è la seconda stagione di House of the Dragon sinceramente poi magari ora la recupero riguardo la prima più tranquillo rilassato magari anche in blocchetti di 2 o 3 puntate insieme e me la godo meglio rispetto alla visione settimanale che ho fatto delle prime 3 massimo 4 puntate dubito fortemente perché quello che ho visto sinceramente mi ha convinto sì Mattioschi mi dà 50 euro perché dico queste cose e e niente però vi posso garantire che nella prigione di Firenze tutti amano House of the Dragon me l'hanno detto me l'hanno detto la settimana scorsa prima che io scappassi salutiamo i nostri amici internati dalla prigione è stata una brutta esperienza ragazzi vabbè Alex allora innanzitutto in chat ho fatto non sapevo sta cosa sono sollevato perché hanno detto che non c'è più Sapochnik che io avevo sì sì hanno litigato perché voleva mettere la moglie non mi ricordo in quale posizione meno male meno male perché non avevo voglia di alzare la luminosità tre volte del mio televisore per vedere che caspita stesse succedendo in quelle scene allora anche io sono uno di quei maledetti schifosi a cui non è piaciuta più di tanto questa serie anzi io lo ripeto sempre era mi stata una discesa nella follia perché prima mi piaceva un sacco poi man mano ho detto ma che è sto schifo però cercando di analizzarlo in maniera cioè non prevenuta non è un brutto trailer forse due minuti è troppo forse venti secondi di meno perché a un certo punto ho detto vabbè mi sono facendo vedere tutte le puntate a una certa c'è una bella atmosfera poi mi sono messo nei panni di chi magari non conosce la storia quindi ancora il dubbio chissà chi vince chissà che succede quindi effettivamente ci si fomenta vedi entrambe le parti che si preparano io continuo a chiedermi come si faccia comunque a non ti fare per Rhaenyra perché i verdi sono veramente dei pezzi di merda cioè fa proprio schifo Rhaenyra non è meglio degli altri ma almeno e infatti per quanto riguarda la profezia io continuo a dire che l'unico motivo per cui l'hanno messa in quel pugnale del cavolo era solo per rendere più umana Rhaenyra e Alicent perché nel libro non c'è staccacchio di profezia vogliono solo il potere nel libro Rhaenyra è fastidiosa tanto quanto Alicent assolutamente assolutamente sì i draghi in realtà vabbè mi sembrano come qualità tali e quali a quelli della scorsa stagione quindi chiudi un po' un occhio e dici va bene vi faccio trasportare da questo mondo fantasy va bene così tra l'altro io non so se hanno fatto un montaggio accurato per chissà però a un certo punto c'è questa tizia che dice ci sono più modi per combattere una guerra per vincere una guerra e poi si vede un coltello ho detto vuoi vedere che è quella scena lì vuoi vedere che è quella scena lì infatti io lo sto aspettando questa serie solo per quella scena lì che secondo me la renderanno di merda ma voglio vedere voglio avere il dubbio il fatto che ci sia quella battuta detta da quel personaggio confermo una mia teoria quindi sì probabilmente ci sarà da incazzarsi ma ne parleremo a tempo debito sì sì e quindi in realtà niente posso dire che comunque lo vedrò perché non prendiamoci in giro comunque lo vedrò dai voglio provare a essere positivo almeno per questo inizio di stagione quindi un bel trailer promosso tutti bravi e posso dire che in generale hanno fatto una campagna marketing migliore di quella degli anni del potere la parte degli anni del potere appena cominciata però già la roba trailer dei verdi trailer dei neri cioè bravi diciamo che si prestava molto a quella cosa lì mettiamola però secondo me poi ne parliamo dopo non hanno fatto una cosa troppo non dichiarata magari ma anche gli anni del potere sta facendo una cosa tipo quella secondo me un pochino sì noi parliamo dopo Travatar non credo sia interessato ah l'hai visto grande questo era un po' prima perché lo stavo vedendo allora in realtà c'è il fatto che io sono per anni a me piace dire così per anni sono stato uno degli sfigati che non guardava Game of Thrones dopo l'ottava stagione sono stato uno dei pochi lungimiranti che non ha mai visto Game of Thrones quindi mi piace come la mia rivincita tardiva detto questo non conoscendo molto neanche della prima stagione il tele in sé non mi ha detto granché posso solo giudicare un paio di cose tecniche non mi ha fatto impazzire sta fotografia grigiona ok che immagino sia un tempo cubo ma in alcuni punti era davvero un po' troppo grigia due minuti e mezzo troppi meglio l'altro che più corto questo è proprio secondo me un po' troppo dispersivo la CGI dei draghi per me non era malaccio quindi ci sta e sul discorso draghi di verne siccome io sono il patito dei mostri sono due creature talmente simili che sono quasi intercambiabili non è che se vedi una sirena e dici cent'aura allora tu fai cent'aura avrebbe un paio di cose diverse draghi di verne cioè è proprio il meno chi se ne frega in quel caso quindi è proprio un pontificare sul nulla e comunque le viverne sono più piccole e mi pare non sputino fuoco quindi quelli sono draghi comunque uomo non fate arrabbiare Alex Ignazio no allora io l'ho guardato anch'io prima cioè in realtà non prima della live ma in generale ho visto che era uscito l'ho guardato ma così come ho guardato il coro degli anelli del potere due serie che però so già non vedrò perché tanto non lo dico molto chiaramente perché semplicemente di House of the Dragon non ho visto la prima gli anelli del potere ho visto le prime due puntate mi ero un po' annoiatino di questo trailer alla fine concordo con le cose che avete detto sul lato tecnico sul lato narrativo poco poco so vabbè poi magari il pensiero generale lo faccio più con il secondo trailer di cui parleremo nel senso che ovviamente poi a livello tecnico però mi sembra che gli anelli del potere sia veramente su un altro livello comunque vabbè ora non so bene i budget però tra soldi e anche poi gente impiegata perché come dico sempre i soldi contano fino a un certo punto puoi avere un sacco di milioni ma se poi non hai le giuste persone a fare gli effetti speciali non esci comunque bene però sì ecco quindi ripeto è un telefilm che non guarderò ma perché semplicemente io non ho visto Game of Thrones già e volevo recuperarlo quando era finito quando è finito tutti mi hanno detto no non recuperarlo allora poi è arrivato House of the Dragon e ho detto beh magari inizio da qua no Mattia ma potrai vederlo ma sì tanto comunque è un prequel di quelli molto prima poi però tutti mi hanno detto no no in realtà non guardarlo quindi sono sempre così che non voi direte vabbè ma provaci comunque però visto che il tempo che ho è sempre meno eh niente quindi beh uomo puoi sempre leggere i libri tanto è una saga fatta e finita no esatto scusate posso dire una cosa io non sentivo telefilm dal 1994 più o meno fantastico io sono grazie grazie sono sono un po' meno vecchio ma nerd anch'io quindi certi 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 termini non riesco a toglierli da poco mi sono abituato a dire Spider-Man è un uomo ragno quindi vabbè comunque le lascio parlare adesso chi ne sa di più quindi immagino Gianni non io praticamente perché anche io purtroppo faccio parte di quella lungimirante persone che non ha visto Gianni potevi visto l'imbeccata potevi fingere di saperne di più noi siamo dei luri di hipster non la vediamo e se la vediamo diciamo che è brutta esatto no no però io posso dirvi che quando uscì il primo game of cioè la prima stagione di game of thrones la vidi e non mi piacque semplicemente quindi che schifo ecco che merda e però ho la mia ragazza che ho la mia ragazza che è in fissa con questo mondo e ha letto i libri di game of thrones e quelli di house of the dragon io posso dirvi che dal trailer che mi ha fatto vedere lei obbligatoriamente perché lei dice no ma almeno la guardiamo insieme no però non mi avrà mai l'amore non vi vincerà questa volta vi posso dire che in generale il trailer è confezionato bene l'ho percepito molto lungo secondo me c'è una scena che mi è piaciuta anche proprio a livello registico e di montaggio cioè quando lui mette il piede nell'acqua e poi a un certo punto c'è tipo la camera che si gira e si vede la nave quello è molto molto carino lo sapete cosa è che a differenza degli anelli del potere ma non perché dovevo fare un confronto però è una serie tv gli anelli del potere mi sembra qualcosa di più cioè non lo so proprio mi ha dato altre vibes ci sta in generale poi non conosco i personaggi che ci sono all'interno però è confezionato bene la musica è ritmata giusta va bene vecchio nerd primo intervento in assoluto prendiamo nota vada io dico una cosa che mi sa che contro la visione sono Mattia forse è stato mi trovo con lui nel senso che io l'ho guardata House of Dragon la prima stagione e mi è piaciuta l'ho seguita con grande piacere e ci sono stato dietro e ti dico la verità quando uscivo vedevo l'ora di guardare la puntata dopo cioè mi sono divertito veramente mi è piaciuta mi è piaciuta considerate che dal punto di vista del budget queste due serie non andrebbero neanche paragonate perché le stagioni di dell'anelli del potere costano 450 milioni House of Dragon costa circa 200 milioni quindi stiamo parlando del doppio del budget tra le due e secondo me questo fa tanto rimanendo strettamente sul trailer il trailer mi è piaciuto abbastanza se dobbiamo confrontare i due non lo so se mi è piaciuto di più onestamente però noi dobbiamo considerare che spesso mettono in competizione queste due questi due mondi che secondo me in competizione non dovrebbero neanche essere proprio perché il punto di vista è proprio diverso è come se noi oggi paragonassimo Rebel Moon a Star Wars più o meno non è dal mio punto di vista non ci sta non ci sta storia non voglio sapere delle due serie qual è la sfigata che è Rebel Moon io mi sento io mi sento particolarmente affezionato al Cine degli Anelli per vari motivi insomma penso di aver visto il primo film in assoluto in videocassetta è stato il cartone di Bansky del 78 quindi per me è stato proprio un amore a prima vista quello lì quindi mi aspetto molto da questa seconda stagione però ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una Lamborghini contro una una buona macchina sportiva dall'altro lato quindi il come dire il paragone potrebbe potrebbe essere impiedoso dal punto di vista della parte narrativa vediamo vediamo dove va a finire perché la componente magica è molto meno presente di solito insomma in questo tratto di House of Dragon e a parte i draghi voglio dire però non è una componente magica visto animali che esistono è un po' diverso e soprattutto mi piace la scena finale di lei in penombra con sto drago dietro che quasi la protegge e mi ha ricordato un fumetto indipendente di qualche anno fa di Enrico Simonato che racconta una storia alternativa del grande Mazinga un'opera di cui sono ovviamente fortemente fortemente appassionato ecco quindi mi aspetto tanto il trailer mi è piaciuto però secondo me sul piatto ci sono ci sta qualcosa che mi aspetto con maggiore con maggiore hype ecco come dicono i giovani ecco va bene io ritorno a fare il minagramo fino a un certo punto nel senso che a me la prima stagione non è piaciuta l'ho detestata cordialmente più andava avanti più scuotevo il capo però questo trailer è sicuramente confezionato bene non si può dire il contrario un po' troppo lungo un po' troppo lungo avrei sacrificato qualche scena di dialogo al buio privilegiando invece quelle componenti action che certo poi non saranno presenti in lungo e in largo parliamo di uno spin off di Game of Thrones quindi gli intrighi di corte di palazzo predominano su tutto lo resto e va anche bene però se vuoi catturare un po' l'attenzione e fallo vedere qualche muscolo e i muscoli ci sono devo dire che è fomentante anche se di questi personaggi non mi interessa granché proprio come ritmo e costruzione del climax non si possono muovere troppe critiche a me i draghi non piacciono tantissimo non mi piacevano particolarmente neanche nella prima stagione dove molto spesso c'era il buio alla Sapochnik per cercare di renderli credibili però allo stesso tempo dico anche che questo trailer è stato caricato in 1080p e a tratti c'erano i pixel grandi così quindi gli effetti visivi sono anche questa cosa ma chissà è stranissima questa cosa sono anche scarsamente giudicabili secondo me è successo anche con un altro trailer recentemente ricco di effetti visivi anche quello che è 1080p non ricordo quale sì ma comunque compresso 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 è 1080 ma ormai ma secondo secondo voi scusatemi è perché in questa maniera tu dai qualche cosa in pasto un po' nascondendo qualche cosa che in realtà non è pronto non credo secondo me è più umani che se lo passano secondo me è quello più 4k non ha senso però perché se tu non hai il monitor per guardarlo non lo vedi in 4k questo sia chiaro quindi o lo fai in 1080 o lo carichi in 4k perché sanno che comunque la maggior parte della gente guarda sui cellulari bravo al king Mufasa era in 1080 sì perché praticamente non è non è proprio un 1080 natio io posso benissimo fare tipo una compressione sempre a 1080 ma non è natia e la stessa cosa è successo anche con Mufasa e tu vedi proprio che ma è in 1080 molto spesso andiamo a vedere le impostazioni di youtube perché non lo vediamo pulito perché già è stato fatto in questo modo quasi tutti li fanno ancora in 1080 ma a me sembra che il passaggio al 4k per i trailer professionali fosse arrivato che poi fosse vero fittizio io rimpiango apple trailers che una volta lì si trovavano dei trailer che mamma mia erano cioè ring of power finalmente ring of power forse in 4k comunque questo era per dire che non mi metto a giudicare la qualità grafica dei draghi da sto trailer che comunque le puntate della prima stagione si vedevano volentieri anche sotto quel profilo non c'era mai un frangente orribile che ti faceva dire mamma mia come è finto che brutto semplicemente già nei trailer passati e in questo lo confermo finora non mi stupiscono vediamo dai magari raddrizzano qualche componente che a me non era piaciuta non c'è più Sapocnik come showrunner e regista principale magari cambia un po' lo stile non penso perché a fronte del grande successo credo riconfermeranno le cose che sono piaciute alla maggioranza però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire che è